Ciao a tutti ragazzi di TecnoAndroid e benvenuti al nostro unboxing del Huawei Honor 4X. Dopo aver lanciato ottimi smartphone della serie Honor 6 o Honor 6 Plus, Huawei ha deciso di lanciare anche uno smartphone sempre con caratteristiche tecniche molto interessanti ma sicuramente un prezzo leggermente più contenuto. L'Honor 4X può essere tranquillamente acquistato su Amazon al prezzo di 199€ circa. In questo video vedremo l'unboxing con il contenuto della confezione originale mentre per qualsiasi altra informazione inerente al prodotto vi rimando direttamente alla nostra recensione completa che pubblicheremo successivamente. Confezione standard Honor, Huawei Honor, quindi di colore azzurro con apertura in questo modo. Immediatamente qui vi si trova il terminale, terminale che vediamo rapidamente da un punto di vista estetico. Innanzitutto presenta un ampio display perfettamente in stile Huawei Honor con i tre tastini on screen, fotocamera frontale e sensori oltre che l'altoparlante per le chiamate. Posteriormente invece abbiamo una cover in policarbonato, policarbonato non lucido, vedete leggermente zirinato, molto carino sia al tatto che alla vista, con marchio Honor al centro, fotocamera e flash LED. La cover posteriore può essere rimossa e quindi si permette l'interazione delle sim. Gli unici tasti fisici sono stati posizionati sui bordi, qui troviamo accensione, spegnimento e volume, superiormente jack da 3.5 mm con microfono per la riduzione del rumore, sul lato sinistro nulla e inferiormente altoparlante per la riproduzione musicale, in quanto vedete che non è stato posizionato sulla parte posteriore, micro USB e microfono per le chiamate. Devo dire che esteticamente è un buon dispositivo, è leggermente pesante, però è molto carino. Proseguendo nell'unboxing troviamo, come in tutte le confezioni Huawei Honor, definite a volte molto scatolose, comunque troviamo cuffiette per ascoltare la musica in mobilità, abbiamo un micro USB to USB, il cavetto per collegare il terminale al computer o comunque ricaricarlo tramite alimentatore da parete compresa USB. Sempre al suo interno poi troviamo inoltre tutta la manualistica del caso che ci aiuterà passo per passo ad utilizzare o avvicinarsi al nostro Huawei Honor 4X. Per tutte le altre informazioni non mi resta che rimandarvi alla nostra recensione completa che pubblicheremo nei prossimi giorni.